inizio a fare il contorno di questo lavoro con la pasta da contorno non ho una dima sotto perché c'è un disegno già si è ritraffato sono delle margherite questa è la pasta da contorno e praticamente dopo in questa pasta andremo a farci la nostra colata di resina chiudere fino in fondo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.